Chi siamo? Buonasera a tutti, mi presento, sono Roberto Jark, sono presidente della Fondazione Memoriale della Shoah e quindi gestisco questo luogo insieme a ottimi collaboratori. Per chi non è abituato di questo luogo e mi sembra di vedere anche fortunatamente delle facce nuove, ricordo che la nostra azione è rivolta soprattutto alle scolaresche, cioè abbiamo fin dall'inizio dell'esistenza dell'idea del memoriale abbiamo detto ci rivolgiamo ai giovani e ci rivolgiamo soprattutto agli studenti. Copriamo praticamente tutta la scuola, dalla quinta elementare fino alle superiori e abbiamo visitatori, scuole organizzate che coprono tutto il tempo disponibile. Abbiamo dei periodi in cui siamo arrivati a toccare i 1200 studenti in un giorno e poi, ma non solo quel giorno, ma 11.000 nel mese. Quindi sono veramente risultati molto importanti che ci hanno permesso di acquisire nel mondo scolastico una certa notorietà e negli ultimi due anni abbiamo visto confermata dal primo al secondo anno dopo il blocco del covid, io temevo che ci fosse una buona fluenza il primo anno ma che poi scontassimo il secondo, invece anche il secondo ha confermato che nei primi quattro mesi abbiamo quasi 48.000 studenti che sono stati quest'anno fino al 30 di aprile abbiamo totalizzato 48.000 studenti. Questa iniziativa rientra nei programmi che la commissione, la nostra commissione eventi con Marco Vigevani cerca di ottimizzare e di differenziare anche nelle sue argomenti fondamentalmente dando spazio a tutte quelle realtà che in questo momento nel mondo soffrono di violenza, di pregiudizio, di razzismo, di tutte quelle sofferenze che nel secolo scorso avevano portato alla grande tragedia del Shoah e dello sterminio. Ecco, quindi il nostro è un piccolo contributo che diamo più in prima battuta come contributo formativo dei giovani, in seconda battuta invece come divulgazione di momenti storici e di realtà storiche che se conosciute possono aiutare a migliorare la società. Con questo vi auguro buona serata, sono certo che sarà molto interessante questo dibattito e lascio la parola a Bellezza che vi introdurrà la serata. Grazie. Grazie mille, buonasera a tutte e a tutti. Io mi chiamo Simone Bellezza, insegno storia contemporanea all'Università del Piemonte Orientale ma oggi sono qua come presidente di Memorial Italia. Memorial è in realtà originariamente un'associazione che è nata in Unione Sovietica negli anni Ottanta da un gruppo di storici ed intellettuali che avevano come obiettivo quello di recuperare la memoria delle persecuzioni sovietiche, di conservare gli oggetti, i racconti, le fotografie delle persecuzioni politiche che c'erano state dagli anni Trenta e che in Unione Sovietica erano ancora negli anni Ottanta assolutamente tabù. Da quell'associazione si sono poi sviluppate un sacco, Primigenia che è nata a Mosca si sono poi sviluppate un sacco di altre associazioni sia in giro per l'Unione Sovietica sia nei paesi europei e in Italia nel 2004 in particolare è stata per l'appunto fondata Memorial Italia che associata agli altri memoriali europei persegue per l'appunto questo fine di studiare e ricordare le persecuzioni in Unione Sovietica. Sono particolarmente grato al Memoriale della Shoah per averci ospitati qui questa sera perché come probabilmente voi saprete in Unione Sovietica anche gli ebrei erano perseguitati, furono più ondate in vari periodi perseguitati e anche quelle persecuzioni per l'appunto sono per l'oggetto del lavoro di Memoriale che ha cercato di ricordarle se tra l'altro poi ci ricordiamo anche il fatto che in Unione Sovietica non si diceva, non si raccontava che per l'appunto le vittime principali della seconda guerra mondiale erano stati gli ebrei, la memoria sovietica era una memoria che ometteva questo piccolissimo particolare della seconda guerra mondiale e quindi in realtà questo incontro di oggi ha luogo qui perché c'è un nesso molto importante tra queste persecuzioni, tra questa istituzione e l'azione anche della nostra associazione. Come saprete oggi noi abbiamo qua come ospite, la ringrazio tantissimo, Tetiana Yankelevich Bonner che come saprete è stata anche figlia adottiva di Sakharov e Sakharov fra le varie cose che diceva la propaganda cattiva diceva che per l'appunto sua moglie Elena Bonner in realtà era un agente sionista che attraverso appunto cercava di influenzare il dissenso sovietico e quindi insomma questi sono argomenti l'antisemitismo, la persecuzione degli ebrei, la memoria delle persecuzioni sovietiche di altro tipo e anche ovviamente quello che succede oggi in Russia e in Ucraina con l'attacco dell'Ucraina sono tutti argomenti che si tengono assieme, credo che lo sappiate, Putin ha reso illegale memorial in Russia, almeno alcune delle associazioni ma sicuramente l'associazione centrale di Mosca alla fine del 2021 giusto prima di partire con l'attacco dell'Ucraina e quindi come dire si ha iniziato una nuova era di oscurantismo sulla memoria e su quelle persecuzioni che noi invece cerchiamo di ricordare perché queste hanno un significato ovviamente civico e politico. Vi ringrazio di essere qui e lascio subito la parola a Tatiana Jankelevic ma soprattutto ringroziandola anche a Elena Kostukovic che è stata la vera anima e organizzatrice di questo incontro e quindi a nome di Memorial ringrazio la socia di Memorial che così tanto si è spesa per questo incontro. Grazie, buonasera. Grazie, devo moderare e devo tradurre. Queste due cose vi confonderanno perché alcune mie frasi saranno la traduzione di ciò che dice Tatiana Jankelevic, altre invece dico di nome mio. Comincio dalla seconda parte, nel senso io volevo avvisare, non avvisare, avvertirvi di ciò che abbiamo premeditato, tre parti in questo nostro incontro, tempo permettendo, ma un'ora l'abbiamo, io spero che ce la facciamo. Quindi la presenza stessa della figlia di Andrei Sakharov è già un'enorme cosa, penso, è molto importante perché in ogni enciclopedia del ventesimo secolo, in tutto il mondo, in tutti i paesi, se apriamo proprio una parte illustrata ci sarà il viso di Sakharov, è una persona di cui l'attività morale, l'importanza e il carisma ha influito sul corso della storia e sul serio la caduta della dittatura sovietica, probabilmente nel periodo degli anni 80 e inizio 90 del secolo scorso, è la conseguenza di ciò che faceva Andrei Sakharov che era ancora vivo e poi che morì nel corso della perestroica. Noi chiederemo sicuramente che ciò che fa un'ora, nel corso della voce, è un'ora che ciò che faceva che fatta insieme all'ora, quindi il senso che si tratta, in questo del corso dell'armi e in questo caso sono stati in questo caso, che ciò che si tratta è in questo caso, è un'ora che ciò che ciò tra l'altra, in questo modo, è un'ora che Quindi questa sarà la mia domanda in quale modo ha influito secondo lei Sakharov su ciò che succede adesso e come noi possiamo vedere la situazione di oggi alla luce dell'operato di enorme importanza di suo patrigno. Poi noi abbiamo qua le nostre colleghe e le persone che hanno tanto lavorato per l'esistenza stessa della Memoria d'Italia, insegnata dal premio Nobel assieme a tutte le altre memorie del mondo, premio Nobel della pace. Quindi direi che una piccola particella di questo è in te Giulia e in te Patrizia che sono qui per presentare due libri. Un libro è quello che ha curato Patrizia Dellotto ed è, fa parte della collana di cui lei parlerà quando noi dopo il discorso di Tatiana passeremo la parola a lei e a Patrizia e con la prefazione di Marcello Flores che io saluto e ho visto in sala e che mi fa molto piacere di salutare sempre. E altro è un libro assolutamente particolare questo su Andrei Sakharov, non è la graphic novel in realtà, è una specie dell'enciclopedia di tutto ciò che bisogna sapere sul distenso sovietico, vero? E che è spiegato in una maniera talmente semplice che è adatto anche a questi stessi scolari, alle commitive di studenti che vengono qua in questo museo. Quindi direi che quadra molto il discorso indirizzato al target di questo museo e il libro di come è fatto. Giulia stessa ha partecipato alla nascita di questo libro così come Patrizia ha il libro che presenterà lei e quindi con questi due interventi noi concluderemo cercando di stare dentro tipo non più tardi delle sette perché così avremo un quarto d'ora per le vostre domande. Ora, Tatiana, lei sa già la domanda, voi già sapete qual è il vostro domande, e adesso la prego di rispondere, c'è lei il microfono. Il microfono è l'altra. Ora io traduzco quando lei... Quindi ci sarò sempre come colonna sonora. e ci sarò sempre come colonna sonora, c'è lei, 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 c'è lei. Il funerale di Sachero è stato nel dicembre del 1989. E in questo giorno Michail Gorbaciov si avvicinò a Elena Bonner, a mia madre, e disse dopo il funerale noi penseremo a come immortalare la memoria di Andrei Dmitrievich. Senza un attimo di esitazione mia madre rispose non c'è nulla da pensare, bisogna solo registrare la società a memoria. E così è stato. Un mese dopo è stata registrata la sede moscovita del memorial, che è stato il germoglio, da cui si sviluppo dopo la memorial internazionale. 30 anni dopo noi siamo stati testimoni della completa sconfitta e distruzione di questa società, è stato il memorial di questo pilastro della società civili. Novole popolini молодi idealiisti, che considerano l'impostazione in Russia, in post-soviettale, in questo proostrazione di una democrazia, ora si trattava un periodo più difficile. Molti di loro sono arrestati e assaggiati per i stagionati stagionati in piuttosto. che sono cresciuti adesso e sono diventati adulti adesso e che credevano sinceramente alla possibilità della costruzione della società democratica in Russia, ora sono costretti a vivere la realtà piena di terrore, di paura, subiscono le condanne, sono spesso arrestati e mandati nei campi di lavoro, nei campi di detenzione dove le condizioni sono veramente quelle di vera tortura. Ilia Yashin è in un modo che non è una persona che non è una persona a questo popoletto e non è in modo che non è in modo che non è una persona di protezione, ma che è stato un nuovo giro di questo regime, Alexei Navalny. io avevo in mente sia un mio amico Vladimir Karamurza autore del film loro hanno hanno loro che sceglievano la libertà e un'altra persona giovane che io non conosco direttamente ma parlo di Ilia Yashin che adesso è in in prigione tecnicamente in una colonia penale e a cui io scrivo delle lettere, non so se le arrivano però, questo non mi conferma nessuno e anche un altro che di un'altra generazione, cioè leggermente più grande di loro però che si si però si però che è una nuova vittima dello stesso regime io parlo no volevo dire scusate lui non è difensore dei diritti umani nel senso nel senso stretto la parola ma comunque è una nuova vittima di questo regime Alexei Navalny Allora poi e della la suaza prima marito l'esite du mese è stata è una di missi e catore bulla proboscenia grazie d'annesti post sovietico obbiettivo adieno sni che da buon memoriale rupo e buon center andrea saharova sostane di a sacra nini e buona scelte sono nati due società adesso in russia che sono nate allora due società dedicate alla difesa dei diritti umani e conservazione della memoria uno è il centro saharoff centro di andrei saharoff l'altro è la memoria russa e castelli zetti centrov stall centrum sopprотивление nasilio imena ognuno di esse è diventato un centro di resistenza alla violenza proprio perché si occupano della ricerca della verità storica e in minna e to stalla pricina i costa d'arresti nei ripresi protiv etich aboich nei pravi stenech centrov e ich un'istagini a diktaturi vladimira putina e proprio questa è la causa della repressione statale contro entrambi questi centri e della loro distruzione da parte della dittatura di vladimir putin diktatura vladimira putina privila la quale dittatura ha portato alla nascita di una nuova politica imperiale e alla depredazione della memoria storica di tutto il paese e per rispondere alla domanda iniziale devo dire che le conseguenze per la società civile in russia di ciò che sta succedendo sono tremendo di disastrosi basta da ma non c'è anche un'istagione? ho fatto io aggiungo un po' di solo addolito per esempio mi sembrava questa 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 il 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 скажу два слова я лично знала его с моего отрочества наш дом был первым куда его привел его со лагерник и к этому дому он прибился как почти как родной более dungere anche sui libri che stanno tenendo in mano и коллеги libro su kuznetsov mi fa ricordare eduard kuznetsov che io conosco da quando ero adolescente un suo compagno di detenzione è venuto in casa nostra ha portato dietro lui suo amico моя мать назвавшись его четкой присутствовала на суде над людьми пытавшемуся бежать из советского союза была на была единственным человеком допущенным на свидание с ним после смертного приговора mia madre che si dichiarò sua zia di kuznetsov che non era vero è stata presente alla seduta del tribunale e poi è stata l'unica per anna balla i justin cilio concatori è stato l'unica persona a cui è stato permesso di assistere al tribunale su queste persone che volevano scappare dall'unione sovietica che però raconterai tu la situazione della storia del libro e in последствии она же была тем человеком благодаря которому вот эта книга попала свободный мир его следующая книга mass mordovsky marafon также eb этом участвовала ваша соотечественница русская florentina maria al sufiева которая привезла которая вывезла эти transcript и его произведений и помогла их опубликовать на западе grazie mia madre questo libro proprio questo ha potuto attraversare di nascosto clandestinamente i consegni sovietici e poi è stato pubblicato qui in italia grazie alla vostra con nazionale che anche di origine russa la maria o sufi e va chi viveva firenze e che è stata la traduttrice la prima edizione il tarak che è stato scritto per le persone così giovani che forse non conoscono neanche chi fosse saffra non conoscevano prima di averlo comprato pizze связi с этим мне очень важным кажется понимать что там где нет памяти о произволье преступлениях прошлого нет понимания важности права и экзистенциальная амнезия прошлых преступлений преступного советского режима totalitarного режима приводит сегодня к принятию полицейского государства амнезия e talmente importante sapere queste cose anche i giovani devono saperli perché dove non c'è memoria dell'arbitrarietà del sistema giuridico sovietico dei misfatti sovietici non c'è comprensione dell'importanza del diritto l'amnesia essenziale dei crimini passati del regime repressivo sovietico porta oggi all'adozione dello stato di polizia e mi zna e sui собственi e storie mi zna e storie strada nei cattori prinies la savetski totalitarismo prinios люди поддерживают novi e cravau e e pristupные попытки per battit своих sassetti e ignorando la storia di terrore e sofferenza causata dell'imperio sovietico la gente sostiene i nuovi tentativi sanguinosi e criminelli per schiavizzare proprio vicini e popoli vicini e paetom мне очень важным кажется что вышла такая книга для следующих поколений сегодня когда мы к нашему ужасу являемся свидетелями pro palestinskich призывов в университетских кампусах к уничтожению израиля к насильственной деятельности в поддержку террористов мы являемся свидетелями подъема ультра правых повсюду в Европе распространение пропаганды идеологии ненависти оправдание или отрицание российской агрессии в украине си и для магиор ragоняне bisogна leggere bisogna che leggono i giovani studenti un libro come questo perché ciò che ci circonda il momento in cui noi viviamo è abbastanza terrificante noi assistiamo agli appelli pro palestinesi nei campus universitari ci sono quelli che richiamano la distruzione di israele stessa che propaga che fanno propaganda delle attività violente a sostegno dei terroristi e noi assistiamo all'ascesa dell'estrema destra ovunque in europa e c'è la diffusione dappertutto di questa propaganda propaganda che alla fine porta anche alla approvazione oppure sostegno dell'aggressione russa in ucraina e mnogo из этого происходит под маской patriottismo но несет кровь e человеческие страдания gran parte di questo si presenta sotto la veste di patriottismo del patriottismo e in realtà porta sangue porta sofferenza umana porta distruzione e перед нами стоит невероятно важная задачa защita demokrattia e grattanscogo общество e человеческих общечеловеческих ценностей e noi dobbiamo difendere la democrazia lei principi valori mani universali e mi piace che nasce di e saccaro e il suo primer è il nostro e probabilmente l'eredità di saccaro per il suo esempio ci devono aiutare devono essere il nostro alleato in questo compito così importanti saccaro prende l'isit miru caccaro appartiene a tutto il mondo nonostante è dimenticato quasi dimenticato in patria e saccaro sono uscita che la storia è la vita di tutti gli uomini di noi tutti e quino aiuto di chi ci stai di alla storia e della storia altra non è che la somma dei sforzi di tutti gli uomini di noi tutti e adesso perché queste cose per nuoverellezze delle nostre e di sopopopo per la storia essenziali cioè di sottopopo per nuoverelle pari uspulso vati buona street e zlupo dribbia in carisma c'è l'er ebay le sacre tia suoi istinne namirini e per difendere questi valori bisogna contrastare a chi contrastare a chi vogliono utilizzare la eredità di sacro e manovrarla manipolarla nei propri scopi oppure per nascondere proprio scopi noi dobbiamo far ritornare in in azione le veri idee di sacro oppure trasmetterli alle generazioni che stanno venendo например scuola e programma della scuola deve assolutamente contenere delle lezioni basate su su ciò che diceva saharoff e dobbiamo insegnare i diritti umani anche a scuola lui considerava che l'ideologia dei diritti umani è quella denominazione di nominazione comuni e di tutti noi e che può accomunare tutti gli uomini indipendentemente dalle loro convenzioni culturali e delle specificità nazionali e politiche insomma di creare una società globale e su la sua persona aveva tre caratteristiche principali che tutti i suoi amici sapevano era la mancanza e il mancanza di la mancanza di la mancanza della l'ho è l'ho 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 di avere il profitto come? Abnegazione. Abnegazione è stata la sua pezzi. Questa è la sua pezzi. Va bene? La sua pezzi, la sua imparzialità e la sua pezzi, la sua pezzi. E io spero che questa книga aiutere tutti i lettori di riprodurre questa forma mentis e queste qualità della persona di Sahara e di essere altrettanto privi di voglia di profitto, privi di parzialità e privi di paura. Ecco, spazio. Ora, Patrizia, dieci minuti. Giulia, dieci minuti e domande dieci minuti. Allora, il libro che più volte è stato citato stasera Parole trafugate... Ah, scusate. Allora, il libro... Così? Così? Sì. Allora, il libro Parole trafugate Diari clandestini dalla Russia 70-71 è il settimo volume della nostra collana edita da Guerini e promossa da Memoriale Italia. Il libro era già uscito nel 73 ma abbiamo pensato di riproporlo perché, tra l'altro, nonostante tratti un episodio legato agli anni 70, comunque ci sono molte riflessioni di Kuznetsov che ci riportano all'oggi. E come ha già ricordato Tatiana Mianchilievic, senza il coraggioso intervento di Eliana Bonner e di Andrei Sakharov non sarebbe mai giunto in Occidente questa potente testimonianza di lotta per la libertà e per il rispetto dei diritti umani che viene riportata appunto in questi diari redatti clandestinamente da Kuznetsov nel lager a regime speciale Dubavlag in Mordovia. Mordovia è un territorio che si trova a sud-est di Mosca dove, tra l'altro, molti dissidenti hanno scontato le loro condanne. E appunto Kuznetsov gli stava scontando una condanna di 15 anni per aver tentato nel 1970 di dirottare un aereo per espatriare in Israele. Come ha ricordato Tatiana nei primi di ottobre del 1968 Kuznetsov reduce da una prima condanna che aveva avuto di sette anni perché da giovane studente della Facoltà di Filosofia dell'MGU dell'Università di Mosca aveva partecipato alla distribuzione e anche attivamente alla redazione di una delle riveste autoprodotte del Samizdat che avevano cominciato a essere presenti sulla scena sovietica proprio nel 1960. Il primo una era Sintaxis di Alexandre Ginzburg cioè nel senso promossa da Alexandre Ginzburg e l'altra ideata da Yuri Galanskov Fenix. Kuznetsov aveva partecipato proprio alla realizzazione dei numeri di Fenix ma venne sorpreso e quindi subito tacciato di appunto propaganda antisovietica e condannato per questo a sette anni. quando negli anni passati appunto nel campo di detenzione a regime speciale era cresciuta in Kuznetsov la sua versione per la politica culturale sovietica e aveva perso anche ogni speranza che si potesse veramente realizzare una democratizzazione del paese e quindi questo l'aveva portato a decidere di lasciare appena possibile il paese per emigrare in Israele. Nel 1969 infatti raggiunge la moglie a Riga e insieme cominciano a preparare le carte per espatriare legalmente. Il problema è che fra i documenti che andavano presentati c'era la richiesta del profilo dal posto di lavoro e questo era uno dei documenti più importanti la moglie non poteva riceverlo perché aveva appena terminato l'università e Kuznetsov quando va dal suo ex datore di lavoro a chiedere appunto un profilo però per espatriare in Israele naturalmente gli viene negato perché il fatto stesso in un'unione sovietica di presentare dei documenti per l'espatrio in Israele significava a compiere un tradimento nei confronti della patria quindi difficilmente un datore di lavoro si prendeva questa responsabilità quindi Kuznetsov si sente leso nel suo diritto di emigrare e sente di avere il diritto morale di contrapporsi con un atto illegale infatti il 15 giugno del 1970 viene arrestato per aver tentato di dirottare un aereo dall'aeroporto di Leningrado Kuznetsov progetta insieme appunto all'ex pilota militare civile Dimchitz un piano di fuga dal paese infatti progettano di comprare i biglietti di un piccolo aereo che faceva la spola tra Leningrado e Priazersk una località sul lago Ladoga con la scusa di partecipare a una festa di matrimonio in realtà una volta arrivati lì si sarebbero impadroniti dell'aereo per poi emigrare in Svezia per passare in Svezia e emigrare in Israele nonostante fossero venuti a sapere che comunque il KGB era venuto a conoscenza di questo piano e quindi sapevano che una volta arrivati all'aeroporto sarebbero stati arrestati comunque decidono di portare avanti il loro piano sia perché questo avrebbe avuto una risonanza internazionale sia perché avrebbe richiamato proprio l'attenzione del mondo sulla violazione del diritto di emigrare per i cittadini dell'Unione Sovietica per tutti l'accusa fu di alto tradimento Kuznetsov e Dimshitz vengono condannati alla pena di morte che poi verrà commutata in 15 anni di campo a regime speciale e sempre nello stesso campo Mordovia che però verranno ridotti poi a nove anni per uno scambio con le spie sovietiche che hanno state smascherate negli Stati Uniti Kuznetsov inizia a scrivere questi diari nell'ottobre del 1970 quando appunto è in attesa del processo che si svolgerà il 15 dicembre del 70 Elena Bonner come ricordava già Tatiana Ianchelievici prende parte attiva al processo gli procura l'avvocato lui non voleva avere avvocati perché tanto riteneva che non sarebbe servito nulla ma quando viene a sapere che sono i suoi amici che gliel'hanno procurato lo accetta come ricordava Tatiana grazie a un documento firmato dalla madre di Kuznetsov la Bonner riesce a farsi passare per la zia fra virgolette di Kuznetsov e quindi questo le permette di fare visita nel carcere in seguito di fargli visita nel campo in Mordovia mandare pacchi con indumenti cibo libri naturalmente solo quando questo era possibile perché poi spesso i libri venivano sequestrati e inoltre nel corso del processo di Leningrado la Bonner partecipa a tutte le sedute e quando rientrava a casa trascriveva il contenuto delle istruttorie che poi riusciva a far passare attraverso le amicizie a far arrivare a Mosca ai corrispondenti dei giornali stranieri inoltre all'ultima seduta quella del 30-31 dicembre la seduta della Cassazione partecipa lei con Sakharov e in quell'occasione appunto verrà comuntata la pena in come dicevo prima 15 anni di detenzione lei la Bonner si precipita alla posta per mandare un telegramma alla prigione per avvertire appunto Kuznetsov di questo cambiamento pur sapendo che non gli avrebbero consegnato sicuramente il telegramma affinché non fosse arrivata una notizia ufficiale in realtà il capo della sezione dell'isolamento istruttorio glielo comunica proprio il 31 dicembre quindi quasi come un regalo per la fine dell'anno questo però c'è un fatto ancora più eclatante legato a questi diari perché come potete immaginare tenere un diario in un carcere e tanto più in un campo a regime speciale era pericoloso stressante non era facile entrare in possesso di carta e matita bisognava scrivere di nascosto col timore sempre delle perquisizioni di essere sorpreso il che voleva dire che i materiali potevano essere requisiti e naturalmente aggiunti gli anni di pena tuttavia c'è un'urgenza assoluta che lui stesso esplicita proprio nel libro dice che cosa significa per lui scrivere un diario il diario per me è una forma di consapevole resistenza contro un'esistenza impossibile quindi la necessità di raccontare di lasciare la testimonianza di ciò che sta vivendo e di cosa ha vissuto dell'arbitrarietà di uno stato totalitario che si manifesta ogni momento e in modo pervasivo supera ogni timore e quindi la scrittura diventa un elemento preponderante per la vita di Kuznetsov quando si trova ancora nel carcere del KGB a Leningrado viene scoperto il nascondiglio dove aveva riposto una cinquantina di fogli scritti fitti tra gennaio e maggio lui ha la prontezza di strappare dalle mani della guardia il fogli e di farli a pezzetti e lasciarli come racconta lui buttarli nel water e tirare la catenella e dice i manoscritti così sono bruciati anzi sono annegati nella moica nella fontanca nella neva insomma come Davolo si chiama qui naturalmente Kuznetsov è una persona colta il libro ha molte citazioni riprese dalla letteratura russa e anche dalla letteratura in generale dalla letteratura straniere e qui fa riferimento a un modo di dire che poi è stato ripreso che proviene dalla letteratura cioè dal maestro Margherita i dati i manoscritti non bruciano lui gioca su questo e dice invece bruciano anzi in questo caso non sono eterni appunto come invece è il significato del modo di dire originale comunque si ripromette di ricostruire questi questi suoi scritti e ecco che anche in Mordovia dove il lager è veramente un lager speciale in tutti i sensi i controlli sono severissimi tuttavia lui riesce non solo a trovare un modo per continuare la scrittura dei suoi diari e questo è interessante perché si procura questa carta che era una carta sottilissima che si trovava con cui avvolgevano i prodotti finiti nell'officina del lager e lui fa delle strisce le riempie con una scrittura molto minuta e poi ne fa dei piccoli rotoli che si potevano mettere in bocca in caso ci fosse una perquisizione e se la perquisizione fosse stata ancora più profonda avrebbe potuto inghiottirli questo tra l'altro si vede nel documentario che ha girato la figlia nel 2016 che si chiama Operation Wedding tra l'altro si può vedere con 4 euro in internet dove la figlia ha raccolto le testimonianze del padre e della madre e lui sempre con la sua ironia che è presente anche nella scrittura del libro dice fa vedere come appunto preparava come scriveva come preparava questi rotolini e dice non so se sono ancora in grado di farlo perché ho perso un po' la mano forse dovrei tornare a fare un corso di aggiornamento nel campo ci sono tante dibattute che ritornano un po' per alleggerire probabilmente la tensione della scrittura la cosa interessante è che poi questi manoscritti arrivano a oltretutto volevo dire che anche la difficoltà di trafugarli era data dal fatto che quando avevano dei colloqui non potevano indossare i loro indumenti ma dovevano indossare la giacca dei secondini delle guardie in modo che così non ci fosse proprio possibilità di trafugare niente comunque Kuznetsov riesce forse Tatiana sa qualcosa in più rispetto a questo comunque Sakharov nelle sue memorie racconta che nel dicembre del 72 si è presentata a casa sua della moglie della Bonner una donna che ha lasciato un involucro della larghezza di un dito dove erano contenuti i manoscritti di Kuznetsov e una lettera indirizzata agli Ussia perché così veniva chiamata familiarmente la Bonner e la Bonner capisce che appunto deve farli arrivare al più presto in occidente lei con i suoi problemi agli occhi non poteva certo decifrare il test li passa a Viktor Kostov che era un intimo amico di Kuznetsov il quale a sua volta senza avvertire la Bonner li passa a Gabriel Superfine che anche lui poi diventerà un personaggio legato insomma anche lui verrà imprigionato per propaganda antisovietica ma una volta trascritti questi datiloscritti questi appunti vengono restituiti alla Bonner che li manda contemporaneamente a Maria Ussufiva come già stato ricordato Maria Ussufiva è stata una delle traduttrici più importanti degli anni 60 e 70 proveniva da una famiglia nobile Pietro Burghese o Moscovita emigrata appunto dopo la rivoluzione e aveva conosciuto la Bonner nel 66 a Mosca e infatti si era poi anche interessata molto del destino di Kuznetsov tanto vero che anche lei aveva contribuito mandando prodotti o indumenti per insomma aiutare quando la Bonner preparava i pacchi appunto per il campo e quindi nel 1973 arriva arrivano questi materiali in Italia e pubblicati da longanesi e contemporaneamente all'insaputo della Bonner erano arrivati anche a Parigi e lì erano stati pubblicati dalla casa editrice IMCAC Press che pubblicava in russo e in francese e quindi insomma hanno avuto una risonanza in Europa per le guardie naturalmente del Lager questo fu uno smacco pazzesco perché non si sarebbero mai immaginato che prima di tutto che loro non si erano accorti che Kuznetsov stava scrivendo un diario e in secondo luogo che era riuscito a trafugarlo tant'è vero che inizialmente pensavano che questo fosse stato qualcosa di fabbricato dal KGB come già era successo quando avevano fabbricato i protocolli di Sion invece le centurie nere che erano vicine a quella che era la polizia zarista appunto prima si è parlato di sionismo e si è ricordato insomma il sionismo e anche Kuznetsov nel libro dice sì sionismo come veniva inteso in Unione Sovietica cioè secondo i protocolli di Sion questa grande cospirazione di ebrei che dominavano il mondo allora con questo concludo volevo solo dire che questo diario oltre a essere una denuncia delle degradanti e inumane condizioni di vita dei prigionieri una denuncia dei mali che minavano la società sovietica e lo stato totalitario come è possibile vederlo ancora oggi è anche una riflessione acuta ironica e sarcastica della condizione esistenziale dei prigionieri politici in Unione Sovietica e una riflessione sulla mentalità che era comunque venata di antisemitismo ma soprattutto mi sembra che si possa dire che sia un'ulteriore e significativa testimonianza del ruolo fondamentale che hanno svolto Andrei Sakharov e Elena Bonner per la difesa dei diritti umani nella società sovietica diritti che ancora oggi come vediamo hanno bisogno di essere difesi grazie Patrizia di questo testo così denso e con questa velocità con cui tu l'hai pronunciato che si rifletteva anche nella corsa del treno che si accelerava sopra una impressione di dover lottare correre contro il tempo qualche cosa io l'ho tradotto parola per parola a Tatiana che continuava a dire tutto giusto tutto così io propongo che noi sentiamo Giulia e se abbiamo come io spero qualche minuto per non avere questa frenesia di testi pronunciati velocemente voi fate qualche domanda o una semplicemente una valutazione di quello che avete sentito è comunque impressionante che Patrizia ha lavorato su un testo importantissimo e mentre Tatiana lo conosce in diretta persona avendolo visto proprio nascere questo libro a me fa sempre impressione quando si può toccare con una mano la grande storia dell'umanità Giulia grazie grazie Eliana buonasera a tutte e tutti grazie mille io sarò ancora più breve perché credo che sia preziosa la presenza di Tatiana e anche Levici qui con noi quindi lascerei a lei più spazio possibile io vi porto i saluti anche dell'editore di Yuri Garrett e di Tatiana Pepe la traduttrice e curatrice di questo volume che come ha detto Tatiana è davvero fondamentale per passare il testimone per raccontare un qualcosa del passato che ci aiuta a capire il presente e senza capire il passato sovietico senza capire comprendere e rielaborare il trauma del gulag non potremo mai capire comprendere e si spera anche lottare contro il regime russo che attualmente miete vittime in Ucraina e distrugge i migliori frutti i migliori figli del proprio Stato coloro che in questo momento sono nelle prigioni o in attesa di giudizio in Russia questo libro assomiglia molto ad Andrei Dimitrivić perché contiene tanti libri Andrei Dimitrivić era una figura straordinaria che è quasi impossibile raccontare fisico attivista prigioniero politico egli stesso è davvero un destino che racchiude mille destini e questo libro è riuscito a farlo in una maniera per me esemplare eccellente perché racconta questa storia dall'interno e dall'esterno racconta uno squarcio di secolo enorme perché la vita di Sakharov comprende tutta la storia dell'Unione Sovietica praticamente e quindi anche un piccolo corso come diceva anche Yelena di storia dell'URSS e racconta però anche attraverso le parole di Andrei Sakharov è un libro che è un lavoro collettivo straordinario frutto della collaborazione tra archivisti tra giornalisti illustratori illustratrici scrittori ed è davvero il frutto di un'enorme selezione di dati informazioni testimonianze si riduce all'osso e si tiene l'essenziale per raccontare una storia la grande storia ma lo si fa dal punto di vista del singolo e quindi è anche un libro molto di memorial in questo senso perché quello in cui credeva Sakharov e quello in cui crede memorial anche oggi ancora oggi è proprio l'idea che la storia passa sempre dal singolo dalla singola persona e della difesa dei suoi diritti e la memoria della singola persona è il modo per ricostruire la memoria di un paese soprattutto una memoria così mutilata per usare le parole di Maria Ferretti come quella dell'Unione Sovietica e del passato sovietico ecco la storia di Sakharov in questo senso è esemplare ed esemplare perché è la storia di una persona che oltre alle libertà che ha detto Taziana Jankelevic a mio parere aveva anche la libertà della responsabilità era una persona che si era assunta fino in fondo una responsabilità ed è quello che esorta a fare anche tutti noi quando ci sentiamo impotenti di fronte ai grandi cataclismi del contemporaneo già l'idea di avere la possibilità di agire e di assumerci una responsabilità è un modo per cambiare la realtà intorno a noi e volevo solo concludere dicendo come questo libro che sembra raccontare una storia passata e lo fa tra l'altro con un linguaggio veramente molto contemporaneo è in realtà frutto anche del mondo in cui viviamo e del momento che stiamo vivendo il libro doveva andare in stampa il 17 agosto del 2023 ma hanno aspettato ancora un giorno perché il giorno seguente il 18 agosto è stata emessa la sentenza definitiva che chiudeva il centro Sakharov e l'editore Yuri Garrett ha inserito alla fine del libro una nota in cui spiega proprio questa vicenda vi leggo solo una piccolissima parte il 18 agosto 2023 con un cavillo giuridico il giudice del tribunale di Mosca Vecislav Poliga lo stesso che pochi giorni prima aveva condannato a 19 anni di reclusione il politico di opposizione Alexei Navalny ha ordinato lo scioglimento del centro Sakharov nonostante teorico diritto di appello si tratta dell'epilogo di una lunga e dura repressione iniziata nel 2014 quando il centro Sakharov era stato dichiarato agente straniero dal governo russo nei suoi 27 anni di attività il centro fondato nel 1996 da Elena Bonner si è proposto come spazio di libertà e luogo di incontro oltre a promuovere attivamente i diritti umani e la libertà di espressione in un paese sempre più represso vi erano ospitati l'archivio Sakharov una biblioteca una mostra permanente sul movimento dissidente nell'URSS e varie mostre temporane l'edizione italiana di questo libro vuole essere anche una voce a sostegno delle molte persone che hanno rischiato e stanno rischiando la vita per la causa dei diritti umani in Russia abbiamo nominato prima Ilya Yashin Lazimir Karamurzan Alexei Navalny ucciso dal regime russo ce ne sono migliaia di altri ormai le cifre superano ampiamente le statistiche degli ultimi anni dell'Unione Sovietica essere qui questa sera è anche un omaggio non solo ovviamente alla figura straordinaria di Andrei Sakharov ma anche a tutte e tutti loro grazie buonasera io vorrei rompere adesso arriva il treno vorrei rompere un po' il ghiaccio per vedere se c'è qualche domanda insomma abbiamo ancora un dieci minuti per sfruttare la presenza straordinaria qui tra di noi di Tatiana Yankelevich e la mia domanda è questa abbiamo avuto l'impressione dai giornali da tante cronache eccetera che in Ucraina e anche negli esuli ucraini all'estero ci sia poca sensibilità verso il dissenso russo si è visto anche con la morte ucciso di Alexei Navalny ci può dire qualcosa su questo cioè esiste oggi una forma diciamo di solidarietà almeno tra gli espatriati ucraini e russi oppure permane come ci sembra di capire da qua da lontano una diffidenza grazie 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 aqui grazie Sredi ucrainani, città ucrainanze, città ucraina e helsini, sredi le persone che ora svolano il suo sordine dell'Ucraina e il suo sordine del futuro, Grazie a tutti. Per quello che mi è noto, in Ucraina, tra quelli che difendono i diritti umani, tra quelli che lavorano per questa causa, che sono membri del gruppo di Helsinki, ucraino, e tutte le persone che sentono profondamente i problemi del proprio paese, del futuro di questo paese, io non ho mai incontrato un atteggiamento negativo verso il dissenso russo. Anzi, posso dire che quando c'è stata una proposta di liquidare, di rinominare la via dedicata a Sakharov in una delle città ucraine, c'è stata subito una risposta della società che non ha sostenuto questo progetto, a che studi non to cari il nome di Sakharov la città e la via Sakharov esistere. Grazie. Io spero che questo durerà, cioè che gli ucraini continueranno a sostenere la causa che è la continuazione del lavoro di Andrei Sakharov. Io voglio dire che, non ci sono direttore di risposta alla domanda di Marco. Io voglio dire, che Patrizia, come obiettivano a sostenere la storia del mio popolo e della mia patria. Mi sembra che Patrizia rappresenta in un senso il studio del passato del mio popolo della mia patria. Invece Giulia, che è il futuro, il futuro, il futuro, il futuro, il futuro. E mi è stato molto importante e piattante uscoltare a Giulia le parole che ho spostato in economia del tempo. Sassarov ha visto l'attività in un'attività in un'attività. Quando parlava Giulia ho sentito che lei ha messo in connessione la visione del mondo di un singolo con la visione storica. E devo dire, e sono contenta, perché anche io stavo per raccontarvi di quanto Sakharov... E quanto Sakharov aveva sempre in mente l'umanità tutta intera, mai con ciò perdendo di vista una persona singola, cioè un individuo. E un altro aspetto che hai suonato, è un'attività in cui Sassarov ha messo in un'attività in un'attività in un'attività. E in un'attività in un'attività in un'attività in un'attività in un'attività, ma non è sempre in un'attività in un'attività in un'attività, ma non si tratta di più che la libertà e l'attività non continuano a giocavare. sono e devono essere indivisibili ecco io volevo dire solo una cosa a sì 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 no volevo solo ricordare a proposito della collana narrare la memoria che è stata e si è costruita proprio su questo cioè presenta memorie diarie biografie proprio perché si vuole raccontare la storia del passato ma anche la difesa oggi dei diritti attraverso il singolo il singolo che si rapporta alla storia solo questo mi scusi grazie mi chiamo pietro cucciuchian sono consul onorario della repubblica di armenia milano ecco fondatore del giardino dei giusti di milano e ricordo che proprio nel 2003 abbiamo onorato andrei sakharov con albero c'era anche tatiana e elena bonner e gli armeni sono molto riconoscenti a sia elena bonner che a tatiana tant'è che io ero nel 1980 88 89 ero in armenia subito dopo il pogrom di sungait dove sono stati dagli azeri hanno fatto un pogrom contro gli armeni passando dalla piazza principale c'era una piccola piazza dietro con una aiola vuota e passava ogni giorno qualche armeno lasciava una fotografia una lettera dei fiori e io erano tutti per sakharov e oggi c'è in quella piazza hanno fatto un monumento a andrei sakharov ecco volevo anche ricordare elena bonner quello che ha scritto molto importante interessante in un libro sempre della guerini la tragedia di sungait elena bonner ha fatto una prefazione e termina con quattro righe che mi sembrano molto importanti erano molto dediti sia andrei sakharov che alle ai diritti delle minoranze di tutte le minoranze dell'unione sovietica e specialmente anche agli armeni del nagorno garabà ecco cosa scrive forse non tocca a me che sono metà ebrea e metà armena scrivere questa prefazione forse non sarebbe meglio che la scrivesse quella donna a zera che ha salvato una famiglia armena quella che ha detto mio figlio vede tutto ciò domani farà le stesse cose è una messa in guardia per noi tutti in questo mondo se noi non arriviamo a far sì che ogni stato sia al servizio degli uomini e non gli uomini al servizio dello stato piccolo o grande che sia non importa i nostri figli e i nostri nipoti si trasformeranno in una folla di bestie feroci come a sungait mi è venuto in mente parlando adesso delle alberi e del tema armeno che adesso stanno proprio in questi giorni stanno piantando un altro giardino a tatev che riguarda un altro detenuto una persona comunque dignitosa che ha fatto molto per la cultura ruben verdagnan che adesso rimane in prigione io volevo nominare questa persona ripeto che veramente le colpe non le ha è rimasto con il suo popolo navorno caraballo è stato arrestato più di un anno sta lì adesso la gente pianta le alberi anche per lui quindi libertà ruben verdagnano ecco direi che ringraziando moltissimo tutti i partecipanti elena costiucovic che amica da tanti anni giulia de florio la professoressa de otto il presidente di memoriali italia professor bellezza e soprattutto tatiana bonner che speriamo si trattenga ancora qualche giorno qui a milano che possa portare questo messaggio importante su sakharov e anche sul l'importanza di sostenere il dissenso in russia stavo per dire in un'unione sovietica tanto le cose purtroppo non sono cambiate forse addirittura peggiorate e soprattutto in un paese come l'italia dove la sensibilità è scarsa la sensibilità è molto indirizzata da fattori ideologici da un forte anti americanismo che permane nella nostra società e quindi è spesso una solidarietà a senso unico è importante che questa voce invece dalla russia democratica arrivi anche a noi italiani quindi ringraziarvi e sperare che poi anche attraverso i sistemi che vedete qui questi sistemi tecnologici avanzati questa nostra incontro questa nostra serata possa arrivare a un pubblico più ampio possibile grazie mille grazie a tutti grazie 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 davvero Grazie. Qui viveva Saharov, la porta della casa loro, questa, la fotografia come lui esce dalla casa dove vivevano insieme a Mosca. E adesso, a Mosca io già sarvalho, ancora pesa questa tavola in forma ovale di bronzo dove c'è scritto qui viveva Saharov, c'è una targa. E lui sta andando a fare la spesa, perché adorava fare la spesa lui. Grazie.